Musica, coriandoli, divertimento e carri a San Marzano sul Sarno è tutto pronto per il carnevale. Si parte il prossimo 22 febbraio nell'ambito dell'Etno Forum. Sono tre i carri che sono stati allestiti e tanti gli eventi in cartellone. Un'edizione penso che sarà straordinaria. Io dico che sarà il carnevale dell'anno zero perché grazie a un gruppo di ragazzi di un'associazione territoriale, l'Opest Danza, che è riuscito a coordinare tutti questi ragazzi che negli anni scorsi hanno sempre realizzato il carnevale, quest'anno hanno ottimizzato quello che di buono c'era negli anni precedenti. Un carnevale che partirà il 22 fino al 25, un carnevale all'insegna del divertimento e dei bambini. L'apertura coinciderà con la serata dell'Etno Forum? Sì, quest'anno siamo riusciti a far coincidere quello che è il programma dell'amministrazione comunale con il carnevale marzianese. Il tutto, come ricevo, partirà il 22. Il 22 di sera ci sarà la serata dell'Etno Forum insieme ai carristi. Saranno tre carri, un importante gemellaggio con il comune di Nocera che sarà qui la domenica. Veramente i ragazzi sono riusciti a creare una sinergia e un ambiente di condivisione che porterà sicuramente un successo nel nostro territorio. Qui abbiamo uno dei tre carri, ma le tematiche che avete affrontato quali saranno? Allora abbiamo realizzato un carro che è prettamente per i bambini, le costruzioni Lego. C'è quest'altro carro che rappresenta la cultura orientale, quindi è rappresentato tutto quello che è il mondo orientale. Ed un altro carro è una sorta di ironia con un carro, andiamo in Iran, che è un carro militare, una sorta di ironia militare. Quante persone hanno lavorato e per quanto tempo avete lavorato? Perché poi facile non è allestire carri di queste dimensioni. Hanno lavorato all'incirca una cinquantina di persone per circa due mesi, quindi c'è stato un bel lavoro. Grazie a loro che riusciamo a fare questa meravigliosa festa, quindi un grazie di cuore va soprattutto a loro che tutte le sere per 60 giorni hanno lavorato in maniera ininterrotta, devo dire con sacrifici veramente disumani. Ora diamo gli appuntamenti, il 22 è l'appuntamento al Parco Urbano, poi come si andrà avanti? Si andrà avanti con domenica 23, la mattina saremo a Nocera Inferiore ed il pomeriggio alle 17.30 saremo di nuovo a San Marzano sul Sarno con il gemellaggio con Nocera, quindi interverranno 10 carri allegorici. Il lunedì sera faremo una serata prettamente per i bambini con uno spettacolo di Illusion Magic organizzata da una struttura specializzata per fare questi spettacoli e poi si proseguirà con una serata danzante. Il gran finale è martedì 23 alle ore 10 in Villa, ci sarà un grande evento coreografico e piromusicale quindi ci sarà da divertirsi con tanti giovani.